Che ci faccio qui? Qui è proprio il mio posto, perché dopo aver sperimentato vari programmi televisivi, aver fatto un po' di cose nel mondo del mio spettacolo, ho un po' voltato pagine, nel senso che mi sono lasciata andare alle mie passioni, una di queste passioni che è nata da qualche anno sono i cavalli e quindi in questa fiera di Pordenone abbiamo presentato un evento realizzato con Ranch Academy che è un'associazione di amici che promuove le tradizioni rurali e la vita con i cavalli, la vita all'aria aperta e per questo mi sono tuffata in questo mondo. E' parte del percorso della mia vita, io sono nata come ballerina classica, poi ho incontrato la tv nella mia strada e adesso ho i cavalli e credo che questa passione durerà a lungo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.